Forse è più tardi, dobbiamo servire un nuovo cliente! Tra poco, a casa dei Loud! L'evento più importante dell'estate sta per arrivare! La spugna più famosa al mondo ha un compleanno da celebrare! Festeggia con noi i 25 anni di SpongeBob! Il mio compleanno! A Mirabilandia va in scena la festa più spugnosa, gialla e divertente che ci sia! Non mancare! Vieni a Mirabilandia il prossimo 13 luglio per il Best Day Ever con SpongeBob e tutti i suoi amici! La festa dell'estate sono i Kids Choice Awards e saranno afficcicosi, scintillanti, pieni di star grandi e piccole! Preparati per una valanga di divertimento! Valli epici, dove puoi scegliere tu chi far vincere! E dove sarà la tua spugna preferita a condurre l'evento! Vai su kca.nichelodeon.tv per votare ora i Kids Choice Awards, condotti da SpongeBob e Patrick! Venerdì 19 luglio alle 19, solo su Nickelodeon! Goliador, tutti per uno, Goliador per tutti! Porta sempre con te quanto gusto vuoi! Nelle nuove Fruitella Crazy Mix ci sono 10 mini-booste, così sceglierai tu quando dire sì ai tuoi bambini! Sì, a tanti momenti di gusto! Sì, alla condivisione! Fruitella, il potere di un sì! Quante sfide con Uno! Contro i jolly personalizzabili e una carta speciale per cambiare mano, sarà il primo a gridare... Uno! Tutti fatti per Uno! Scopri anche Uno Flip e Uno All Wild, le versioni speciali di Uno! Riley è ufficialmente in Noti Legend! Giorno di demolizione! Sì! Che sta succedendo? Ampliamento locale! Sai, per gli altri! Ciao, io sono Anzia! Inside Out 2, sono al cinema! Ed ora tuffiamoci in quest'estate italiana! Ciao! 17, grazie! E allora io vado a casa, eh? E devo togliere le ragnatele dalla porta! Dai Fabio! Ma lo capisco! È più bello tornare a casa con Sky! E grazie a Sky Extra lo sarà ancora di più! Perché puoi avere Sky Glass con uno sconto esclusivo del 50%! La prima TV di Sky 4K HDR con soundbar e decoder integrati disponibili in diversi colori! Scopri più su Love My Sky! Sky Extra, per noi, sei speciale! Ed ora a casa dei Loud!